FILE Allora ecco tu si tocca Poi abbiamo fatto un allicamento con X Per capire come poter fare l'interfaccia Aspetta Oh mio Dio Ciamani? Ci geniamo a sci? Grazie, grazie. Ragazzi, mettetelo così. Ma lo conoscete questo posto, signore? Sì, non ci passiamo sempre. Cosa succede qui? Cosa sta succedendo? Non bevo. Non bevo a stare. Tanto capiamo. Per aumentare i sensori del vino. Non lo so. Io sinceramente non lo so. Non lo so. Non lo so. Bellissimo. Tanti abusivi. Esatto. Ma a noi non si può fare. Ma non lo so. Non succederai. Appunto. Non succede niente. Cosa te ne è? Cosa te ne è? No. No. Non c'è. No. Non c'è. Non c'è. E' un incontro con me! E' un incontro con me! Bravo! Gli ospiti di XYZ!